Noi non abbiamo una crisi come quella degli altri, noi abbiamo una crisi di sistema. Voglio dire che in Italia si sono combinati gli effetti della crisi globale di questi anni con una crisi che dipendeva dello sfaldamento progressivo, come ha già detto Massimo Giannini anche nel suo saggio, lo sfaldamento di un modello economico che non c'è più. L'Italia dal punto di vista dell'economia non ha più forma. Se io dovessi cercare di tratteggiare i primi studenti che assetto all'economia italiana, non ci riesco. Sono in difficoltà. Non ha più un disegno. In questo senso mi sembra azzeccata l'immagine dell'anno zero. Il disegno tende a dire che non è più riproducibile. Non è più riproducibile. Tu invece hai usato la figura immaginifica dell'anno zero. Sì, anno zero. Peraltro riferito al 2013, quindi siamo già almeno uno adesso. Esatto. Siamo arrivati al fondo del barile. C'è chi dice, ironicamente, che a noi capita quando arriviamo al fondo del barile, che invece di risalire cominciamo a scavare. Ecco, la preoccupazione è un po' questa. Al momento, è chiaro, non si può chiedere a Renzi di fare tutto e subito, però al momento quello che ancora non si vede, anche nel DEF, devo dire, mi è apparso un po' carente, è proprio questo, cioè il disegno, la visione di quale tipo di paese vogliamo ricostruire, soprattutto dal punto di vista degli assetti economici, sia sul piano della finanza pubblica, quindi dell'uso delle risorse pubbliche, la spesa prima di tutto, sia dal punto di vista delle politiche industriali. Grazie.